Musica E riaccoci qui con la nostra eroina dei videogiochi preferita Che non sono io, ma è Lara Allora, nella scorsa puntata avevamo sbloccato questo tunnel Adesso lo diamo insieme Non ci porterà da nessuna parte perché è chiuso! Non è possibile! Puffi! Allora, vediamo un po' cosa ci manca Io così quasi proverei, sarà un saltino Fantastico, grazie! Non posso uscire dal motoscafo Ehi, maestro, non è finita la musica della scorsa puntata? Diciamo che facciamo se la sconsetto chi viene Kitty, quindi Ancora Il problema è andare a vedere a nuovo che lo facciamo Ma è solo io o lo stesso posto di prima? Perché tipo io ho un pessimo, pessimo, pessimo senso dell'orientamento Eh sì, questo c'è il... Ah, sono le gondole che avevo rotto prima Quindi nada, questo non mi serve Questa stanza ci sono già stata Ho già premuto la leva Quindi non è forse il posto che ci interessa Andiamo a vedere da qui Dove dobbiamo arrivare con la con... Ah, poi c'è l'amico sparatutto Cacchio, però muoiono sempre prima loro Ah, forse mi regala bengà... Due? No, due confezioni di proiettili per il cucile Ed un... Small medikit Non farà la pena ammazzare anche l'altro? Ah, non vorrei che abbiano addosso delle chiavi da darmi E soprattutto non vorrei che ci sia ancora qualcosa da aprire qui Comunque se davvero ci fosse qualcosa da aprire L'apri scoperta prima Comunque dovrei passarci con il motoscafo Perché lasciare il motoscafo lì Aprire quella strada che... Mi permette di arrivare al motoscafo E poi non usarlo È un no sense Ora, devo uccidere l'altizia che sta Ora, che... Mi pensavo che l'ho già fatto fuori Ecco lì, il motoscafo Eh, c'è poco da fare adesso Ultimamente, dovevo per forza Tronare lì Adesso mi sapevo che devo tornare... Con il loco buio e tetro della sola del episodio Adesso Mi piace andare di capire Adesso che sono... Urbine esplosive Nice Mi piace che è, tipo, mentre lo pensavo è successo Ok, allora Torniamo esattamente dove eravamo Ok, utilizziamo il motoscafo Assicuriamoci di non andare sulle mine esplosive per prima Non possiamo andare da lì Il motoscafo non ci entra Rifacciamo il giro con il motoscafo Ma qui, non mi attepo Ma qui Ma lì c'era l'amico che ci dava... ...e l'amico di salutarli addosso Ma è brava Lara, che non è preso la mira Lui cosa fa salendo bene Perché Questa è la cosa Ok 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 Spariamoci in medikit Spariamoci in medikit di gemma? cosa mi dai? ingrediente eeeh caffone salta lara salta lara dai forza forza esci dalla ma esci dalla salta salta ma ti pare che devo consumare un medikit ok almeno stavo facendo bene ragazzi ah simpatico scusami lascia niente si il proiettile ok sappiamo che quelle sono le mine allora vediamo un po' si 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 forse devo prendere una maggiore rincorsa per salire ok qui cos'era quella inquadratura si ok ho capito che sono qui aspetta non vedo niente fammi prendere il raguino girati scusi vorrei essere qui allora lui mi inquadrava da lì questa volta mi la terapia ma la raccontano giusta per ora andare a vedere se c'è qualcosa di interessante da questa parte beh no perchè non penso alla fine di dover assalire su ah fantastico di volerci allora il motoscafo il motoscafo non ha senso far fare queste salite al motoscafo perchè tanto comunque può fare il giro e può riuscarsi dall'altra parte tranquillamente mi ricordo che c'era cosa ne fa ma si ma sarà allora dobbiamo andare sicuramente al alla zona con le mine fare esplodere il motoscafo e come sapere io indipendentemente dal il motoscafo secondo me non riesco a riuscire a riuscire ah ma si questa volta per super per 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 Sì, ma la porta è chiusa Non dirmi che mi sono dimenticata di premere qualcosa mentre ero di là No, devo rifarmela a nuoto Uccidete Ah, vabbè, c'ho la scorciatoria La scorciatoria La scorciatoria Ok Poi io Non l'ha di qua, vero? Indeed, l'ha Indeed È un casino questo livello A molti di voi mi hanno scritto nei commenti Che tipo hanno givappato qui Givapp Oh, non dirmi che Non dirmi che Non dirmi che Oddio Ora mi sono ricordata Ci sono i dodici rintocchi Entra e qua di per passare E andare nell'altro E il mio modo per farlo era andare con il motoscafo di corsa Passando attraverso questa porta No What? Io ormai l'ho salvata E qui mi sono sentita più bella Certo? Vediamo Ma infatti ecco la porta E si è chiusa Pensa Kitty, pensa Come fare? Dovremmo trovare un altro Un altro motoscafo Ok ragazzi, adesso davvero ho bisogno dei vostri commenti Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tornare Con il vecchio salvataggio E ritentare quella cosa Facendo esplodere il motoscafo E lanciandoci in acqua Prima Ma è impossibile Cioè come facciamo a lanciarci in acqua E farcela comunque Entro i dodici rintocchi È impossibile davvero Cioè A meno che Si debba prendere Un altro motoscafo Da queste parti Ma è impossibile Tornare indietro qui Perché c'è il La cascata Da cui siamo arrivati Quindi Cioè zero Questa zona non ci interessa più Zero Cosa Cosa ne dite Allora lasciatemi un commento E proseguiamo Con i vostri commenti Nel prossimo video Io nel frattempo Provo un po' a pensarci Ma Mi assicuro che stavolta Sono in seria Seria difficoltà Perché L'unica soluzione alternativa Sarebbe prendere Sarebbe prendere un altro motoscafo Non so dove A chi appare Magari riguarderò i vecchi video Per ricordarmi se Nell'episodio precedente Ho lasciato un altro motoscafo Da qualche altra parte Ma Ma Non credo Credo che L'unica cosa che si debba fare Adesso È cercare di arrivare Di corsa Alla porta Giapponese Lì Con un motoscafo Quindi mi sa Che dovremmo rifarlo Per suggerimenti Critiche Consigli E quant'altro Spazio qui sotto Al video Sezione e commenti E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao